Ora parliamo delle difficoltà che sempre più famiglie si trovano costrette ad affrontare, soprattutto quelle numerose, ossia con non meno di quattro figli. La crisi infatti continua a mettere in difficoltà molte persone. Per fare una fotografia della situazione, per capire se le iniziative che erano state messe in campo stanno portando buoni frutti, è nostro ospite in studio Guido Bellini, referente per quanto riguarda la provincia di Cremona dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Buonasera, benvenuti. Buonasera, grazie dell'invito e un saluto a tutti i vostri telespettatori. Grazie. Dunque, qual è la situazione per quanto riguarda le famiglie numerose? Allora, a livello nazionale, da un punto di vista normativo, è cambiato praticamente nulla, non è cambiato. Due sono state le novità. Una è stata il discorso del bonus per la nascita del quarto figlio, erogato con un assegno dell'Inps, che però è subordinato ad un reddito ISE di 8.500 euro, quindi pensiamo a una famiglia così composta con un ISE così basso è praticamente una cosa quasi da farne, poco ci manca. Perché questo bonus a quanto corrisponde? Sono 500 euro che vengono erogati, quindi sostanzialmente non cambiano la situazione. Poi c'era la questione della carta famiglia, della famiglia. Certo, ecco, ne avevamo parlato l'ultima volta che ci eravamo visti, un'iniziativa prevista a livello nazionale dalla legge finanziaria 2016. Sostanzialmente è una carta che prevede delle agevolazioni per le famiglie che abbiano almeno tre figli a carico, quindi con sconti presso operatori commerciali privati o anche riduzioni tarifari per i servizi pubblici essenziali. Peccato che però la carta sia rimasta ferma al palo perché da febbraio 2016 ad oggi non è mai stato adottato un decreto attuativo. Inoltre in corso d'opera sono stati aggiunti dei limiti di ISE ingiustificati e addirittura anche ne sono escluse le famiglie che hanno tre figli a carico ma non minorenni ma maggiorenni. Tenga conto che lo stesso provvedimento, dove ha previsto poi il bonus dei 500 euro per i maggiorenni o di 1000 euro per l'acquisto di strumenti musicali, quelli sono entrati immediatamente in attuazione, sono stati erogati senza alcun limite di reddito e nessuno ha fatto obiezioni. C'è anche un'altra questione che riguarda in particolare il mese di gennaio ed è legata alle scuole perché è il momento dell'iscrizione. Sì, ecco, a breve molte famiglie dovranno affrontare il tema dell'iscrizione dei figli soprattutto alle scuole superiori però questo vale un po' per tutti gli ordini di scuole. Non è mai molto chiaro il discorso o la distinzione fra tasse scolastiche e contributi scolastici. Il Ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare già dal 2013 e comunque accedendo sul sito del Ministero è ben chiara questa distinzione. Le tasse scolastiche sono dovute per l'ultimo biennio delle superiori quindi successivamente al compimento del sedicesimo anno di età e sono dovute. C'è poi una parte che riguarda invece i cosiddetti contributi volontari. Questi sono praticamente dovuti anche prima dei 16 anni. Allora, le scuole li richiedono ma non sempre è chiaro il discorso della volontarietà. La famiglia è tenuta sicuramente, se ha le possibilità economiche, a corrisponderlo. Se fosse in difficoltà economiche deve corrispondere solo il costo del libretto delle assenze e l'assicurazione, quella che è obbligatoria in caso di infortunio nell'istituto. Il contributo invece resta volontario e la famiglia può scegliere veramente se versarlo e in che maniera. Qualora la scuola insistesse, tenete conto che un comportamento illegittimo integra gli estremi della violazione di doveri d'ufficio. Quindi questo a titolo informativo è molto importante. Certo, questo è fondamentale. Molti non lo sanno. Esatto. Proprio alla luce di questa situazione che continua a restare difficile e complicata, ci sono eventualmente delle proposte che voi avanzate o comunque dei suggerimenti, possiamo chiamarli così? Ma sicuramente il nostro è un paese che disincentiva la famiglia in generale, la famiglia numerosa in particolare. Tenete conto che è agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda la percentuale di pile da destinare alle famiglie. In Francia una famiglia con coniugi e quattro figli a carico paga, con un reddito di circa 35.000 euro, qualcosa come meno di 400 euro. La stessa famiglia in Italia 4.000 euro, questo per farle capire. Ci sono poi altre iniquità, per cui ad esempio l'IVA sui prodotti per l'infanzia, per internici i pannolini, quelli più gettonati, scontano un IVA con aliquota al 22%, come i beni di lusso, quasi avere figli fosse un lusso. Mentre invece l'associazione danni propone un 4%. Oppure il fatto delle madri lavoratrici che spesso vengono penalizzate perché scelgono il part time e poi per quanto riguarda il trattamento pensionistico vengono poi penalizzate avendo versato meno. L'associazione già da tempo propone invece il riconoscimento di contributi figurativi di due anni per ogni figlio accudito fino al raggiungimento della maggior età, siano essi anche adottati o in affido. Proprio perché in questo modo lo Stato investe meno risorse per le strutture ed è giusto che questa scelta della madre lavoratrice venga premiata. Oppure abbiamo anche un'altra proposta che riguarda il discorso della conciliazione del famiglia lavoro che spesso è lettera morta. Quindi nell'ambito privato premiare quelle ditte anche per quanto riguarda l'affidamento degli appalti che con delle apposite certificazioni dimostrano di aver attuato queste misure. Nel pubblico anche lì favorire con trasferimenti quelle amministrazioni che attuano queste forme di part time o telelavoro o flessibilità degli orari. Quindi sono davvero tanti gli ambiti in cui si potrebbe intervenire per agevolare e sostenere quelle che sono le famiglie con figli numerosi. Noi oggi ringraziamo Guido Bellini che è referente per quanto riguarda la provincia di Cremona dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose per essere stato con noi. Torneremo sicuramente sull'argomento. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie.